settimana molto importante ce la siamo fatta tutta all'ingiù perché questa è l'apertura di lunedì del Dax a 15 e 7 e siamo venuti giù di 700 punti come detto tante volte la velocità di discesa dei movimenti è sempre più alta eh di quella della delle salite e per cui giù giù di 700 punti siamo andati a sfiorare il target dato da quest'area in area 14 e 9 il minimo di ieri 14 9 e 80 circa e poi da lì è partito un rimbalzo normalissimo perché dopo una discesa del genere c'era da attendersi un rimbalzo che è andato a chiudere il gap che si era aperto nella giornata di ieri in apertura e per poi finire su livelli più bassi un pelo sopra questo livello di supporto che ho segnato in bianco tratteggiato ho aggiornato un attimo i livelli di supporto di resistenza sulla base delle ultime variazioni dei prezzi adesso l'area da guardare una chiusura sotto 15 e 100 potrebbe portare a una ulteriore estensione verso il basso verso questa famosa area 14 e 9 che però come vedete a diversi livelli perché abbiamo la media 200 che adesso transita un po più in alto poi abbiamo questo livello di 2.618 che è 2.618 volte il movimento che sto evidenziando in questo momento con i tre pallini blu di 1 2 chiamiamolo così quindi una onda 1 onda 2 adesso sto parlando di teoria di elliot quindi alla rottura del massimo anzi qua del minimo dato dall'onda 1 è partito un movimento impulsivo che aveva come obiettivo il primo 1.618 che era stato già raggiunto l'altra settimana e quindi lo abbiamo tolto il secondo obiettivo è in quest'area 14 9 37 appena sfiorato ieri e quindi questo è un secondo livello importante il terzo è un livello di supporto grafico 14 mila 780 circa quindi quando cominciano a formarsi questi cluster questi raggruppamenti di obiettivi calcolati un po con fibonacci poi c'è il supporto grafico e poi ci sono medie mobile importanti con la media 200 questi diventano dei livelli magnete quindi mi attendo che quest'area venga testata come minimo anche perché poi qui ci abbiamo livelli molto importanti che nei mesi scorsi ci sono dei gap ancora qui da visitare per esempio no in teoria si potrebbe andare a vedere questi gap del 26 marzo che sono anche più in basso 14 7 questi non sono mai stati chiusi ecco quindi mettendo assieme un po tutto questo quadro poi la settimana è stata importante anche perché ha dato conferma del cambio di struttura che avevamo segnalato già la settimana scorsa che la volatilità stop line che era stata rotta al ribasso il 20 settembre non è stata più recuperata perché il rimbalzo si è andato a fermare proprio lì gli ha fatto la resistenza del venuta giù nel frattempo abbiamo cambiato colore e quindi la struttura di medio perché queste sono di breve medio perché queste sono comunque delle medie calcolate sul range temporali di 23 settimane e ha cambiato appunto direzione e adesso andiamo al test della media a lungo media a 200 ecco questo per fare un po il quadro della situazione del dax quindi rimbalzo da questi livelli potrebbe anche tranquillamente continuare nei prossimi giorni quello che a noi interessa è sapere che sopra questo livello di 15 7 questo quadro tecnico verrebbe a cambiare per tutta una serie di motivi che poi diremo viceversa il rimane aperta la strada appunto come dicevo al test di quest'area evidenzata dal rettangolo giallo che se per qualche motivo non dovesse tenere aprirebbe poi la strada all'ulteriore obiettivo qui c'è un altro cluster un altro raggruppamento di obiettivi tecnici e grafici tra l'altro ci passa anche la trend line discendente del famoso megafono vedete che ha finora funzionato quindi il successivo obiettivo eventualmente sarebbe addirittura in area 14 e 2 però come vedete qui c'è anche un orizzonte temporale che andrebbe rispettato perché soprattutto la trend line che da un po i tempi della discesa ci dice che tutto questo potrebbe avvenire fine ottobre o mese di novembre comunque uno step alla volta non portiamoci troppo avanti io questo essendo poi il video settimanale faccio un po un quadro generale della situazione quello che dal punto di vista tecnico quelli che dal punto di vista tecnico potrebbero essere gli scenari più probabili probabili non certi qui la palla non ce l'ha nessuno e comunque sempre occhio ai livelli di chiamiamoli stop o comunque di mutamento del quadro tecnico quindi dicevo del dax 15 e 7 e l'america è sempre 500 e tutti gli indici hanno praticamente fatto la stessa cosa questa settimana confermando il cambio di struttura col cambio di colore volatility stop line l'america che in passato aveva corso di più chiaramente guardate la distanza la media 200 qui ancora di strada da fare ce n'è il primo obiettivo è 4 e 22 per il momento il buy the dip cioè gli acquisti alla cieca quando i prezzi superano un certo una certa percentuale di ribasso continuano imperterriti e anche ieri è stata la stessa cosa rally tutta la giornata però fondamentalmente la giornata di ieri è un inside rispetto alla candela del giorno prima cioè tutto il range di ieri è quasi tutto all'interno di della candela del giorno prima quindi anche in questo caso potrebbe configurarsi un movimento di rimbalzo di chiusura di posizioni di fine settimana dopo una discesa così importante da 4 e 43 fino a 4 e 27 sono 16 punti circa il 4 per cento quindi prese di profitto ci stava ieri tutto un rimbalzo a finire di giornata e stessa cosa per il Dow Jones che rispetto all'S&P è semplicemente solo più vicino alla media 200 perché è dal mese di maggio che in realtà si muove in modo laterale nonostante un paio di tentativi fatti di allungare al rialzo che però sono naufragati però anche qui situazione identica cambio di struttura e test atteso della media 200 darei un'occhiata all'energia perché è stato l'altro tema della settimana molto importante perché questo rialzo dei prezzi dell'energia potrebbe avere un impatto ce lo sta già avendo ma se dovesse continuare così dovrebbe potrebbe avere ulteriori impatti negativi sulle economie il petrolio cominciamo col petrolio che sta lottando qui su area 75 76 che sono le ultime resistenze ieri una giornata positiva perché è riuscito a chiudere sopra 75 è una chiusura importante e apro un attimo il quadro per far vedere meglio ecco da un punto di vista tecnico il superamento di 75 aprirebbe la strada ad area 80 dollari 80 dollari è un obiettivo naturale dato dall'extension di questo movimento correttivo sempre calcola questi sono calcoli fatti con le tecniche di fibonacci non vuol dire che il petrolio va a 80 vuol dire che il superamento di 75 76 renderebbe probabile un'estensione fino ad area 80 comunque l'area 75 deve essere ancora superata all'altro giorno abbiamo avuto un segnale di stop dato da questa shooting star dark cloud fatta proprio qui quindi attenzione perché qui non è detta l'ultima anche perché nel frattempo stiamo vedendo il gas naturale ieri meno 7 per cento gas naturale che ha strappato al rialzo nei giorni scorsi però vedete volatilità altissima e più 7 meno 7 da un giorno all'altro e abbiamo comunque fondamentalmente restiamo ad oscillare qui in area 5 e 6 quindi comunque da seguire la settimana prossima entrambi gli energetici settimana prossima continuate a seguire i video perché sarà una settimana ancora una volta importante perché ci sono i dati sull'occupazione americana e siamo in un periodo di transizione perché le attese dei mercati e qui vengo al rendimento del decennale erano per un rialzo sono ancora in qualche modo per un rialzo dei rendimenti dopo il questo il candelone giallo che ha seguito la riunione della fed della settimana passata e che ha annunciato il possibile tapering quindi la riduzione dei programmi di sostegno monetario quindi è partito un rialzo dei rendimenti che però come vedete già negli ultimi giorni si sta stemperando questo perché le attese per i dati sull'occupazione della settimana prossima non sono molto positive quindi cosa c'entra i dati sull'occupazione perché la fed ha detto che guarderà ai dati della settimana prossima per decidere poi nel mese di novembre se attuare questo piano di riduzione dei sostegni monetari non la farei troppo lunga sulla parte macro perché noi comunque principalmente ci occupiamo di analisi tecnica qui in teoria il rendimento sul decennale si è riportato sopra la media 200 però ecco è da seguire questo movimento di ritorno perché a questo punto l'area 1 e 4 dobbiamo vedere che regga altrimenti diciamo il segnale verrebbe invalidato il segnale dato dall'uscita di questo dall'uscita da questo triangolo cuneo che è stato rotto alla rovescia cioè questo in teoria avrebbe dovuto essere una figura di continuazione del movimento a ribasso invece è stato a sorpresa rotto alla rovescia vediamo le conseguenze sui cambi perché i rendimenti e i differenziali sui tassi tra i paesi influiscono sui cambi guardiamo un po' dall'alto la situazione dell'euro dollaro molto delicata perché l'euro si è portato sul supporto a 1 e 16 e lo sta logorando perché la permanenza dei prezzi su questi livelli logora la domanda più ci sta più la logora e più aumentano le probabilità di un test della fascia successiva che a 1 e 14 vi dicevo che sarei rimasto molto meravigliato se il cambio fosse andato direttamente in area 1 e 14 o addirittura sotto per cui da qui ci si potrebbe attendere come minimo un rimbalzo fermo restando che comunque l'intera struttura come vedete è diventata ribassista per il cambio euro dollaro il dollar index è speculare alla rovescia vedete come qui la volatility stop line si è portata stabilmente sopra la media 200 è stata già testata due volte ottimo l'allungo al rialzo dato da questa in questa settimana dal dollaro qui ci sono resistenze molto forti in area 94 e 7 95 e 7 comunque direi che il la strada al test di quei livelli è aperta visto che stiamo guardando un po la situazione dall'alto darei un'occhiata agli indici principali il nikkei che sull'onda di attese per il ricambio politico di missioni primo ministro eccetera qui aveva rotto al rialzo un canale ribassista che durava da diversi mesi però questa settimana queste attese si sono stemperate si è unito il nikkei all'andamento negativo di tutte le borse siamo di nuovo pericolosamente sotto la volatilità stop line e si è poggiato sulla media 200 quindi attenzione che perché questo potrebbe essere stato alla fine un falso segnale quindi molto importante qui quest'area che ho tracciato 27 e 9 da tenere d'occhio come supporto lo shanghai composite in cina c'è la situazione evergrande tutto il resto comunque fondamentalmente la cina è anche questa un'indiziata a movimenti importanti per cui anche questa è da seguire qui il livello importante verso il basso e 3.500 quindi nello shanghai composite ha tentato di superare i massimi di febbraio non ce l'ha fatta e quindi siamo al test di 3.500 come vedete diverse situazioni interessanti da seguire finiamo col china 50 le 50 azioni classe a principali qui ci sono stati altri fattori il fatto che il governo cinese ha ridotto l'influenza di alcune grosse società tecnologiche cinesi a grande capitalizzazione non so entrare in questi dettagli chi segue le fa le vicende macro queste cose le sa dal punto di vista tecnico abbiamo un impostazione negativa dal punto di vista degli indicatori algoritmici delle medie mobili dal punto di vista grafico un fascione di supporto molto importante fra 14.000 a 14.700 qui i prezzi esitano a riportarsi sopra le resistenze quindi resta aperta la strada al test di questo fascione appunto di supporto molto molto importante quindi tante situazioni da seguire continuate a restare linkati a iscrivetevi al canale youtube per chi non l'avesse fatto in modo da ricevere gli avvisi sugli aggiornamenti e grazie a tutti quelli che seguono anche dalla piattaforma trading view lasciate come sempre nei commenti le vostre segnalazioni su situazioni interessanti su questo video non ci sarà il tempo di vedere le richieste però le farò probabilmente in un video a parte nella giornata di domani oppure nel video di lunedì vi ringrazio per il momento dell'attenzione buon fine settimana a tutti